Negli episodi precedenti. L'uomo che Arcadi conosceva come Balinski è in realtà l'agente della CIA Randall Sharo. Timbro della mia voce, non ti sembra familiare? Mani in alto! Granger è l'ultimo dei problemi. Le prove riguardano il tuo vecchio caso. Ricominciamo con quella storia. Ammanettalo. Vuoi aprire il bagagliaio? Sam è stato appena prelevato dalla DIA. Sembra che stiamo cercando me. Arrestati lo stesso giorno da diverse agenzie federali. Questo è un attacco alla CIA. Lei ha fatto un fatto col segretario della difesa. 90 giorni per trovare la salpa. Sono scaduti. Mani in alto! Sono il comandante qui. Vi posso spiegare tutto. Oh no! Hanno sparato a Dugan.